Ok, non l'avevo mai fatta questa Non la conosco Però è sopravvivenza, quindi è facile Io nelle sopravvivenze di Fall Guys sono forte Ah, ma è tipo, beccati il blu Ah, tipo, sì ho capito Ah, figo, figo Non mi ricordo come si chiama Era una modalità Istanbul Guys Block qualcosa Ma partono da lì o da qui Ah, da qui Va bene, per ora Era abbastanza easy Ecco c'è Un po' poco Mino meno che mi vanno Ovi togliete Toglietevi Vabbè ragazzi Oh C'è più più Non si deve saltare sui buchi Ah, vai Qui ci Ok, qua pure Qui pure Cani pure Però Ora mi sembra che sta andando un po' Un po' Con tutta sta gente Non capisco niente Un po' Ma che cano' Sto confondendo Non vedo niente Oh Dai Dai Tutti qualificati Però non è sotto qualificazione Non lo so Vediamo Oh Oh no Eh, vabbè Quattro qualificati Quanto è Io la mappa Ora Vediamo Una mappa che c'è ora Vediamo Bella Mi piace Ok Va bene Bella Bella Mi piace Ai miei amici Fa schifo Sta mappa I ratatouille Come la chiamo io I ratatouille Vediamo 3, 2, 1 Si corre Via 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 C'è Non abbiamo fatto niente C'è già il vincitore No Dai che sta partita Voglio vincere Addirittura Ragazzi Ma non ci voleva niente Così non si può giocare Una setta stiera Cos'ha No Ho capito La vita E il terreno Che è con Lanciando sfere bollenti Contro Lanciando sfere bollenti Ah Per farli cadere Giusto Mi sa che qua ci perdo Perché non l'ho mai fatta Quindi devo lanciare Ah Lo vedo Difficile Non lo so perché Ma che qua ne ho una Alla mia destra Ah che cazzo fai Porca madonga No Ma che ne sapevo Non lo sapevo fare Sto mappa Non lo sapevo fare Sto mappetto Io ora Cosa mai Credo serve Il privato Mi mancava una vittoria E tipo Sbloccavo Non lo so qualcosa Perché la In realtà a destra Mi spuntava tipo 4 su 5 Di vittoria Quindi non lo so Che cosa Cosa si faceva Aspettiamo Ok raga L'ho trovata A presto Grazie a tutti. Speed? Va bene dai sono forte, il mod sono forte, con la Speed dice nessuno. No no, ma non si capisce niente, è un casino qua. Ancora sono da più qui. Dai, d'avamo morì. Dai dai. Prendi lo speed Dai e corri Ce n'è qui Ancora vai Corri Corri Non mi qualifico Dai Moriti E prendi qualcosa Qualificato Settimo Qualificato Desolvo a este Si sera qualificato Buah Settimo Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E poi andiamo a un pezzo di sterco. Eeeh, niente. Dai, dai, dai. C'è pure il tempo. C'è il tempo. Ok. Mi capita buono forse. Su me. Ok. No. Dai. Se ne ho qualificato che ne sei. Problemi hanno. Ah. Dai. Dai che mi capita quello buono. Siamo. Ultimo. Ultimo. Dai l'ultimo che mi qualifico. Insomma. Qualificato. Qualificato. Qualificato mi sono. Dai, dai, dai. Che se c'è qualifiché. C'è qualifiché. C'è qualifiché. Ma che cosa stavo facendo quel coso? Cosa stavo facendo? Sì. Ok. E' la madonna. Non c'è questo. Non c'è questo. Non c'è questo. Non c'è questo. Bella. E' da tanto che non mi capita. Esagonola. Però questo non è il finale. Ancora ce ne vuole per la finale. Dai, dai, dai. Provo a fare lo snappone. Dai. Dai, dai, dai. Dai, dai, dai. Abicina. Dai, dai. Siume. Codi. Oh. Mi sa che devo impostare anche a tempo. tra grabbare le persone. Urca, urca. No, il karma. No, è il karma. Ah, sto cazzo di karma lo odio. Non lo sopporto il karma. Il karma è la cosa più brutta che esiste. e vabbè. E vabbè. Allora, vediamo se c'è qualcuno online. Non è in mancina, non è in mancina. Non è in mancina. No, non è in mancina. Non è in mancina. Non è in mancina. Non è in mancina. Ora aspettate Aspettate Ora 100% oggi non è online Promax Gioca Fall Guys Vabbè questi Invece che gioca altri giochi Però online Strano che Promax non giochi Strano strano Aspettate qua sono tutti online Ma DPS Eh si Questi sono tutti DPS Alex 752 Ok 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 Grazie a tutti. 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 Bello questo. Questo mi piace. The trick, the trick, the trick. Get out of here! Get clapped on! What is this? What am I doing here? What is this? It's to me! Get out of here! Get clapped on! What is this? I can't wait. It's not over. Let me know what you are doing. Do you have any questions? I'm going to come around. Do you have any questions? Do you have any questions? Go to the room. What did I do? What? basta andare un po' piano sai che se faccio lo disnappetto qua i trick no sto scemo affa ancora come ho fatto a salire il suo sterco umano dai stiamo un po' sempre odiata l'odierò per sempre aie 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 dai nino come fanno riuscirci con un salto così dai 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 piano 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 è un po' piano aie daie aie daie snappato ah però non si può far cadere qua va dai ho testa di assassin creed mi spiace murio non mi sto per qualificare per poco non mi qualifiché per poco uè 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 la va paredes Sì, è vero. Grazie a tutti Ok Perfetto Perfetto Ole Grazie Spuntoni Eh testa di gozzi Perfetto 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 Dai che mi qualifico Mi qualifico per forza Aspettate che entra nel party del signorino Comunque raga sto sfondo di Stranger Things è troppo bello Raga comunque questo sfondo di Stranger Things sulla play è la cosa più figa del mondo Avrà Oh Allora Sto intendo tutto Fall Fall Vi dobbiamo fare un video Fall guys Ehm Va bene Ehm Commentiamo e parliamo di come è bello e di come è brutto Oppure le differenze tra Stambul e Fall No 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 C'è bisogno di differenze Facciamo direttamente le critiche Ehm Come si dicono Ehm Le cose più belle Come si dicono Ehm Le cose più belle Ehm Le cose più belle Le cose più belle Le cose più belle Le cose più belle Ma essere critico non significa essere per forza Ehm Cattivo Cioè no cattivo Nel senso essere contrario Oppure dire qualche difetto di quel gioco essere critico significa che tu giudichi Giudichi appunto quelle della quella determinata cosa non significa Ehm Di quello che le cose significa per forza Tutte le cose che un po' mi piacciono Dobbiamo fare una cosa critica Cioè nel senso Poi una cosa Adesso dobbiamo fare differenza a tutto Ok Io sto facendo quello Io sto facendo uno dei livelli Guarda la mia live Sto facendo uno dei livelli No Ci siamo neanche più Eccolo Anche se non mi arrivò Eccolo Ti ha pulito Eccolo È arrivata qua Alle altre Eccolo Eccolo Che hai fatto Non mi fa felicitò io a mezzogiorno e mezzogiorno e mezzogiorno perché sono andate cosa sto bag non sono tutto ma non capisco io non lo so il codice che non ha messo nessuno sta cosa nel mio padre mi aspetta proprio avere un conto di cosa sono realizzato hai che io sto giocando qua sono in ma tanto non me la fa perché epic a stocca ma perché è proprio della epic ma vaffanculo i server intasati ma che dici sempre non sono più intasati non gestiamo pure support night mangiato due mesi capito il centro di server poi con la cosa ok mi sono qualificato è bellissima sta cosa di cerchi a me piace e mi ha troppi tu sto stai chiuso un po di giudizio ma ma poi però ritorno ma a te non ti piace più no e non me lo faccio il plus ora per dire di tempo ormai tutti i genitori senza plus tutti i giochi che mi piacciono solo senza plus come non è con il plus non è il giocatore singolo non è solo quello non è il plus o hanno messo palla volo che figo non praticamente tiro delle lecce che c'è la critica che mi sa la gente è la cosa non sarà un'altra è il regno non è il mio nono ci dice l'altro sono sui di inizio a freddo il stambolo chi se ne fotte questo il bello ma era l'idea dico e ciò sono stato a terra una cosa che è ehm le vatte sono un po troppo grandi che cazzo di giudizio ha costruire è difficilissimo noi 3 a 1 no vabbè allora facciamo un video dove scrivo i problemi a volare tra parentesi bellissima giusto 4 a 1 per lui vaffan cubo 5 a 1 per me ormai tu non fai faccio la light non provo che farò un video non mi interessa vai 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 che gioca in modalità di merda scusa ancora e voi ancora ancora e vabbè ho perso sto quittando creano il ricordo no io sono automatico automatico devi mettere anti server funzionano quasi sicuro io allora crea ti sto dicendo il code qualcosa è andato solo aspetta e dovrei avviare il gioco dovrei avviare il gioco mi ha risponduto pure a me